Sì, è stata una partita, a parte il secondo set, sempre lì lì, punto a punto, loro sono riusciti sempre a stare sopra. Noi ci è mancato quel guizzo in nuova difesa in più magari, o qualche battuta in più, come hanno fatto loro. E veramente i complimenti vanno a loro, noi lavoreremo in settimana per crescere su questo punto di vista qua. Questa partita ci servono perché il livello del campionato è altissimo e sarà così ogni partita. Rispetto a Moria, tu hai detto che c'è anche delle cose buone, in contesa anche la crescita del gruppo, è un gruppo nuovo come è? Sì, è un gruppo nuovo, chiaramente dopo ogni partita ci conosciamo sempre meglio. Adesso, dopo questa partita andiamo a Cisterna, che è un altro campo ostico e sicuramente possiamo fare meglio. Dove è una partita particolare a Cisterna e un ex? Sì, una partita come l'altra, l'anno scorso sono stato a Cisterna, ma come tutta la partita dobbiamo cercare di focalizzarci su quelli che sono stati i punti in cui magari non siamo riusciti in questa partita qua e spingere su quello.